Musica La giunta di Caltanissetta approva la riduzione della Tari per chi adotta un canerandaggio. Incendio al quartiere Provvidenza. Immigrato aggredisce poliziotti durante un controllo. Quest'anno più che mai la gente aspetta gli sconti per fare acquisti. Italia De Valori raccoglie firme per le dimissioni di crocetta. Incentivare il turismo minerario difficile se le strade sono impercorribili. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. La giunta di Caltanissetta approva la riduzione della Tari per chi adotta un canerandaggio. I particolari. La giunta comunale di Caltanissetta su proposta dell'assessore Boris Pastorello ha approvato la delibera di modifica al regolamento introducendo la riduzione annua di 250 euro della Tari per tre anni a favore di quei residenti nel capoluogo nisseno che adotteranno un canerandaggio dal canile municipale. L'assessore Pastorello dichiara la delibera approvata dalla giunta a Ruvolo che adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale insieme ad altre misure tiene conto di un chiaro indirizzo politico dell'amministrazione volto a fronteggiare il problema del randaggismo da una parte e fornire ai cittadini un nuovo strumento per beneficiare di riduzioni tributarie dall'altra. Data alle fiamme per la terza volta nel giro di pochi mesi un'abitazione di scarica nel quartiere della Providenza a Caltanissetta al civico 26 di Via Danese i gnoti hanno dato fuoco al portone dell'abitazione davanti al quale erano ammassati i cumuli di rifiuti in pochi minuti le fiamme si sono sviluppate fino all'interno della casa pattumiera ma il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha limitato i danni evitando che l'incendio potesse propagarsi alle abitazioni confinanti sono stati alcuni residenti nel vicolo a dare l'allarme al 115 quando hanno sentito l'odore del fumo sul posto sono intervenuti i vigili urbani che insieme ai tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione fatiscente che già altre due volte ignoti avevano incendiato probabilmente per sbarazzarsi della catasta di immondizia presente all'interno gli operai dell'ufficio tecnico hanno sbarrato l'accesso all'appartamento immigrato aggredisce poliziotti durante un controllo un immigrato ganese di 26 anni è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale l'aggressione si è verificata nel centro storico di Caltanissetta gli equipaggi in motocicletta della sezione volanti hanno intercettato in via Palermo lo straniero risultato poi essere senza fissa dimora e con regolare permesso di soggiorno quando gli agenti hanno tentato di fermarlo lui ha accelerato il passo fuggendo in piazza Garibaldi dove i poliziotti lo hanno bloccato ma lui li ha spintonati e ancora una volta è scappato imboccando via Venezia dove per la seconda volta le volanti lo hanno raggiunto ma anche stavolta il ganese si è scagliato contro i poliziotti tentando di spingerli fin quando non è stato immobilizzato non è chiaro il motivo per cui il ragazzo aveva cercato di non farsi controllare quest'anno più che mai la gente ha aspettato gli sconti per fare acquisti sentiamo Prima settimana di sconti stiamo facendo un giro per le attività commerciali di Caltanissetta ci troviamo da Max De come sta procedendo questa settimana? Benissimo l'affluenza era quella che ci aspettavamo anche perché la gente aspettava gli sconti del 50 soprattutto e approfitta visto i tempi che corrono comunque vanno bene Aspettate gli sconti per fare acquisti? Insomma veramente un po' sì perché purtroppo la vita è un pochino diventata insopportabile ma io veramente l'avevo già fatto gli acquisti perché ho avuto un avvenimento e perciò ho dovuto farlo ma cercherò di fare qualcosa in sostanza Comunque conviene acquistare con gli sconti li trova buoni? No ma poi qua si compra bene anche le molte merce abbastanza dove l'ho messo? agli occhiali e molte merce abbastanza conveniente specialmente per i ragazzi anche per noi per le cose così da usare giornalmente Sì rispetto ai prezzi normali sì con lo sconto si può acquistare Oggi infatti si attende appunto questo periodo per acquistati Spero di fare buoni acquisti Sta trovando delle buone occasioni? No Sto entrando ora ancora non sto guardando Stiamo prendendo delle magliette perché si suda e ci dobbiamo cambiare Quindi aspettate gli sconti per acquistare generalmente? Solito direi di sì Insomma una volta che i maglietti servono quando c'è quando c'è il caldo Supergiù ha già dato un'occhiata ovviamente la convenienza c'è? Io compro sempre ho comprato sempre No ma molte persone lamentano il fatto che gli sconti non sono sempre reali Lei invece nota che sono reali? Certo che sono reali per essere molto di meno io dico che sono reali Questa prima settimana di sconti state facendo acquisti? Sinceramente sì già notavo anche da Zuhiki andando verso la piazza che si poteva acquistare benissimo quindi per me va Quindi sono convenienti quest'anno? Sì per me sì poco fa mi sono provata dei costumi va benissimo Prima settimana di sconti ci troviamo da Gentiluomo abbigliamento per uomini come stanno andando questi saldi quest'anno? Ma quest'anno c'è una leggera delusione perché ci aspettavamo molto di più però stiamo lavoricchiando senza tanta confusione abbiamo una clientela così gentile che non ci fa disperare per il traffico e può anche darsi che mancanza di soldi o sono già troppo forniti chi lo sa Magari entra meglio dopo il 27 questo è stato periodo di tasse ma speriamo speriamo perché ancora si spera tutto il mese il fine mese e tutto il mese di agosto che ancora abbiamo tanta di quella merce dentro che dobbiamo uscire perché noi siamo sempre bene attrezzati per tutte le taglie perché come possono sapere il Gentiluomo veste fino alla 75 cioè per avere l'attrezzatura giustamente bisogna avere i vestiti come si deve e siamo pienissimi e dobbiamo ancora uscire tanta di quella merce cioè si spera realmente che si muova qualcosa speriamo a Dio che sia la mano di buona in appena tre giorni 7.590 siciliani hanno sottoscritto la petizione di Italia dei Valori per chiedere le dimissioni del presidente Crocetta o il voto di sfiducia l'azione politica promossa da Italia dei Valori sta riscuotendo crescenti consensi e per questo il partito ha già organizzato l'allestimento di banchetti a Palermo nei pressi della presidenza della regione nei capoluoghi di provincia e nelle principali città siciliane ma sentiamo il segretario regionale di Italia dei Valori Salvatore Messana in tre giorni 7.500 firme Italia dei Valori ha indetto una pedizione per chiedere le dimissioni del presidente della regione Rosario Crocetta perché questa richiesta? perché i siciliani lo sanno è evidente l'azione di disgoverno che sta facendo il presidente Crocetta nessuna riforma innanzitutto prendiamo i rifiuti prendiamo l'acqua pubblica prendiamo la sanità la formazione professionale tutti i nodi della Sicilia non c'è un progetto di sviluppo economico non funzionano i servizi la regione è in default e il presidente della regione a tutti i siciliani in buona fede appare assolutamente inadeguato in più in ultimo le dimissioni dell'assessore Borsellino che lei sono sue parole ha parlato di questione etica e morale da parte del presidente della regione che si poneva come il moralizzatore e il presidente che vantava una superiorità morale ecco tutte queste cose a nostro avviso devono avere uno stop per il bene della Sicilia per cui abbiamo lanciato innanzitutto una petizione online si può andare sul sito www.italiadeivalori.it e firmare noi non facciamo altro che chiedere le dimissioni del presidente della regione e poi lanciamo un appello alle forze politiche perché noi ci troviamo di fronte all'assemblea regionale della direzione regionale del partito democratico di sabato scorso ha decretato la morte politica del governo Crocetta però hanno un'oggettiva difficoltà organizzare una ex strategy perché le elezioni sarebbero difficili da affrontare l'opposizione segnatamente il Movimento 5 Stelle aspetta perché Crocetta lavora per loro di fatto col disgoverno però si potrebbero dimettere in massa è il primo partito avviare un'azione clamorosa non lo fanno neanche loro perché la prossima volta che si vota ci saranno 20 seggi in meno all'assemblea regionale 20 posti in meno più il ricambio fisiologico quindi la maggior parte dei deputati regionali adesso probabilmente non verrà rieletta ecco tutte queste cose vanno a far danno alla Sicilia e ai siciliani per cui lanciamo un appello alle forze politiche di centrosinistra perché si ricostruisca la coalizione e si esca fuori dalle alleanze tattiche che hanno portato a questa situazione e alle forze di opposizione perché facciano opposizione veramente non solo proclamata ma nei fatti determinando di fatto la caduta di questo pessimo governo regionale si è formalmente insediato alla provincia regionale ora libero consorzio comunale di Caltanissetta il nuovo commissario straordinario dell'ente si tratta di Luciana Giammanco nominata con decreto del presidente della regione del 30 giugno scorso il funzionario che subentra al precedente commissario straordinario Rosaria Barresi nominata assessore nella giunta Crocetta è stato ricevuto dal segretario generale Caterina Morrica con cui ha formalizzato le procedure di insediamento ha subito iniziato le visite istituzionali recandosi dal prefetto dal questore dal presidente della corte d'appello e dal procuratore della repubblica mentre per il 21 luglio ha già fissato gli incontri con il sindaco di Caltanissetta il vescovo il presidente del tribunale e comandanti provinciali dei carabinieri della guardia di finanza per quello stesso giorno ha anche convocato l'assemblea dei sindaci del territorio sulla questione di ridimensionamento della rete scolastica che sarà comunque occasione per un primo contatto con i rappresentanti delle amministrazioni comunali locali in merito all'attuale situazione in cui versano le ex province regionali ha detto c'è grande attenzione del governo regionale su questa problematica e ci auguriamo che a breve venga varata la norma sulla regolamentazione dei nuovi organi dei liberi consorsi comunali nel frattempo il governo non lascia certo soli talienti e quindi il relativo personale che continuano ad essere chiamati a dare risposte ai territori e proprio per questo speriamo di avere al più presto la nuova legge incentivare il turismo minerario difficile se le strade sono impercorribili si parla tanto di incentivare le miniere di smesse si parla tanto di creare dei percorsi turistici che porterebbero anche sviluppo economico al territorio per carità è un'idea ottima è giusto valorizzare quello che offre il territorio però bisognerebbe partire dal basso dalle piccole cose ad esempio le strade per arrivare alla miniera di Trabonella la strada è tutta dissestata qui come possiamo notare c'è una piccola transenna la strada sta franando ma per arrivare in qui e ora lo vedrete dalle immagini abbiamo trovato una strada davvero impercorribile dossi veramente molto profondi non ci vuole niente a rompere la coppa dell'olio della mappa o ad avere altri danni quindi si sviluppare le miniere si creare il percorso turistico però come arrivano i turisti ai miniere se le strade sono dissestate? è stato inserito nel bando straordinario per la selezione di 985 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia di cui 823 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili il progetto di servizio civile è presentato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale dalla sezione provinciale WICI di Caltanissetta per l'impiego di 12 volontari che forniranno il servizio di accompagnamento ad altrettanti lavoratori non vedenti dei quali 4 sono residenti nel comprensorio territoriale di Caltanissetta e 8 nel comprensorio Il progetto che si intitola Autonomi tra i Caltanissetta può essere consultato sul sito ufficiale dell'ente www.uicechi.it al link servizio civile mentre il bando è consultabile sul sito nazionale del servizio civile www.serviziocivile.gov.it da cui è possibile pure scaricare e stampare il modulo per la domanda di ammissione i giovani in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal progetto che intendessero prestare servizio civile devono presentare domanda alla sezione Wici di Caltanissetta entro e non oltre il 31 luglio 2015 I comitati di quartiere di Caltanissetta e San Cataldo organizzano per venerdì 10 luglio una passeggiata per la pace tra le due città per la pace nel mondo e in piccolo per la pace nel nostro territorio La manifestazione inoltre può essere l'occasione per siglare in maniera definitiva la fine della sterile rivalità che ha spesso contraddistinto i rapporti tra la comunità nissena e quella san cataldese non a caso è previsto uno scambio di doni tra due bambini delle due città che indosseranno per l'occasione la magliettina di due società calcistiche nostrane che spesso sono state rivali sul campo e non solo ogni gruppo partirà dal rispettivo municipio percorrerà una passeggiata ecologica per poi incontrarsi in una stretta di mano simbolica nello spazio antistante il centro commerciale Due Fontane per tutto il percorso a fianco ai due gruppi ci saranno i rispettivi sindaci Giovanni Ruvolo e Giampiero Modaffari si passerà assieme una serata di divertimento di ballo e musica appuntamento da Caltanissetta a Palazzo del Carmine alle 18.30 con partenza alle 19 e da San Cataldo a Palazzo delle Spighe alle 18.30 con partenza sempre alle 19 e prenderanno il via i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo a San Cataldo nella storica chiesa di Sant'Antonio Abate quartiere Sant'Antonio sabato 11 luglio il 13 14 e 15 luglio si svolgerà il triduo in preparazione alla festa nella celebrazione eucaristica del 14 luglio gli ammalati presenti potranno ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi il 15 luglio dopo la Santa Messa alle 19.45 sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo Giovanni Paolo II e il Carmelo allestita sul piazzale della chiesa a cura dell'associazione San Giovanni Paolo II la mostra rimarrà esposta fino al 16 luglio sera alle 20.30 invece sul palco allestito davanti la chiesa andrà in scena un musical inedito sulla carmelitana Santa Teresa d'Adila il 16 luglio solennità della Madonna del Carmelo già dalle prime ore del mattino la chiesa sarà aperta per la visita e la preghiera personale dei fedeli dopo la messa delle 19 seguirà un concerto musicale dal titolo notti d'estate serenata a Maria a cura dell'associazione musicale Sinfonia e adesso parliamo di salute no al sole selvaggio no al sole selvaggio l'estate entra nel vivo e come ogni anno i dermatologi rinnovano l'invito a proteggere la pelle con un'esposizione eccessiva non si rischia soltanto il melanoma ma bisogna stare attenti anche a patologie meno conosciute come la cheratosi attinica si tratta di una lesione tumorale della pelle che colpisce milioni di persone in Italia e nel mondo secondo alcune stime circa il 60% della popolazione generale sopra i 40 anni di età e con una storia di prolungata e non protetta esposizione al sole ha sviluppato almeno una lesione da cheratosi attinica in Italia ne soffre circa l'1,4% degli over 45 e il 3% dopo i 74 anni a maggiore rischio sono velisti e agricoltori tennisti e sciatori muratori e marinai ma anche chi semplicemente passa molto tempo al sole l'età è un fattore di rischio importante dopo i 50-60 anni i casi aumentano progressivamente la probabilità di ammalarsi è più alta per chi ha la pelle più chiara e tende più spesso a scottarsi e anche per oggi abbiamo concluso vi lascio alla nostra rubrica salute e benessere che oggi vi parlerà di malattie reumatiche intestinali causate da molti fattori ambientali grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione dal fumo dal fumo all'alimentazione sono molti i fattori ambientali capaci di scatenare le più comuni malattie reumatologiche intestinali malattie che colpiscono in totale circa un milione di persone solo in Italia patologie che spesso presentano un meccanismo autoimmune in cui il ruolo dell'ambiente inizia ad essere chiarito solo ora sappiamo che nell'artrite reumatoide ad esempio alcuni fattori ambientali fungono da elementi scatenanti in soggetti predisposti geneticamente secondo la società italiana di gastro reumatologia recenti evidenze hanno mostrato che il fumo è il principale fattore di rischio ambientale e che in presenza di una predisposizione genetica aumenta notevolmente la presenza del fattore reumatoide nel siero dei pazienti anche l'alimentazione sembra avere la sua quota di responsabilità nelle malattie autoimmuni infatti è stato riscontrato uno squilibrio nel rapporto tra acidi grassi omega 6 e omega 3 a sfavore di questi ultimi che hanno invece una funzione protettiva sul sistema immunitario a Autore dei sorrisi